Io sono Ilaria, ho 14 anni e sono un'allieva del Nuovo Trato San Paolo. Frequento il corso che si tiene il venerdì pomeriggio, tenuto da Maria di Tommaso. Da febbraio faccio anche parte del cast dell'Attesa, ovvero uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena a marzo, ma che in realtà andrà in scena ad ottobre. Verso gennaio di quest'anno, prima del Covid chiaramente, ho fatto un provino tra quasi tutte le ragazze dell'Accademia per appunto la parte della piccola nell'Attesa e sono stata scelta, il giorno che me l'hanno detto ho fatto tipo i salti di gioia. Tornare in teatro dopo mesi e mesi che non ci mettevo piede è stato bellissimo perché io sono innamorata di questo teatro, innamorata della recitazione in generale. E sì, ok, durante il lockdown comunque abbiamo continuato a recitare anche da remoto, però era proprio il palco che mi mancava. Per me l'Attesa in realtà è un'esperienza molto nuova perché ho fatto altri spettacoli in passato ma non erano mai di questo tipo.